Innanzitutto una grande emozione nell'ascoltare prima il canto di Carmen Consoli nella registrazione del 2006 e poi le sue parole. Devo dire che la fondazione è stata straordinaria nell'intuire l'affidamento del ruolo di maestra concertatrice a questa artista italiana e siciliana di straordinaria passione, di grande talento che esprime la dignità e la forza del Sud e che con la sua cadenza catanese interpreta le canzoni salentine con una facilità e una naturalezza straordinarie. Io penso che questa edizione della Taranta avrà come elemento fondante la forza, la dignità delle donne che tengono in piedi le nostre società anche quando sono piene di contraddizioni e le costruiscono, le lanciano verso il futuro cercando di renderle migliori. Questa capacità delle donne ovviamente costituirà il leitmotiv di tutta la manifestazione che verrà dedicata alle donne come cura dell'umanità. Ecco, credo di aver intuito questo. Questo forse ha voluto realizzare il consiglio di amministrazione della fondazione che liberamente ha, devo dire, in qualche maniera accolto anche la visione strategica della regione che da queste contaminazioni, da questi elementi ha tratto grandissimo beneficio e una lucidità nel definire il proprio cammino anche di natura politica, non solo culturale.